Stava lavorando sul tetto di un'azienda quando è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. Sciocca la CNH di Iesi dove è scomparso stamattina un operaio di 55 anni, giornata nera per le marche. Altra vittima anche a Rapagnano in conseguenza di un incendio. Da Falconara alla Vallesina e ora guardando ad Ancona per dire basta alle esalazioni industriali, i sindaci fanno fronte comune, chiediamo monitoraggi e verifiche della qualità dell'aria, la tutela dei cittadini, la nostra priorità. La segretaria nazionale del Partito Democratico Schlein in visita a Cantiano, comune tra i più colpiti dall'alluvione, stilettate all'indirizzo del governo Acquaroli, la giunta regionale deve svegliarsi per risolvere le criticità post calamità naturale. Attesa finita domani l'inaugurazione dell'anno di Pesaro, capitale della cultura 2024, il sindaco Ricci, un sogno lungo dieci anni, palace sold out per l'arrivo del presidente Mattarella, poi concerti, balli e divertimento fino a notte. Una buona serata dagli studi di ETV Mark e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che voi come di consueto potete seguire in contemporanea sul canale 12 del Digitale Terrestre e naturalmente anche sulla nostra app che si scarica in maniera gratuita per smartphone e per tablet, sul nostro sito www.etvmarket.it, sulla nostra pagina Facebook. In primo piano purtroppo un drammatico incidente sul lavoro che si è consumato nella mattinata alla CNH di Iesi. Stava lavorando infatti sul tetto di un'azienda quando un 55enne è precipitato nel vuoto, shock per tutti i colleghi e gli altri lavoratori che si trovavano presenti in zona, ma per i dettagli ci dice di più Linda Cittadini. Chi era lì sul posto si è accorto immediatamente perché poi non riesco a descrivere l'accaduto, chiedo scusa. In fabbrica ci sono lacrime, c'è sgomento, c'è incredulità. Sconvolti i lavoratori alla CNH Iesi per l'incidente mortale avvenuto in mattinata, un uomo di 55 anni, Simone Filipponi, della BF Impianti, ditta esterna di Castelbellino, stava lavorando sul tetto di un locale per la produzione, doveva mettere materiale per coibentare, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto, nonostante l'imbragatura. Un volo di circa 7 metri e un tonfo terribile davanti agli occhi di alcuni lavoratori presenti. I sanitari sono arrivati in voli, nelle ambulanze, ma tutti i vani sono stati tentativi di rianimare l'uomo. Sul posto anche i carabinieri di Iesi e l'autorità giudiziaria. Aperto un fascicolo d'inchiesta, disposta la ricognizione cadaverica da parte dell'autorità giudiziaria. Non posso fare altro che esprimere il cordoglio alla famiglia, alla famiglia di questo lavoratore, di questo collega e quindi siamo tutti addolorati. Ci pare grave ancora morire sul posto di lavoro. Non si può pensare di andare a casa, di non tornare più a casa dopo essere stati al lavoro. Ogni mattina andando al lavoro adesso sembra in questo paese, quasi un'impresa, almeno in certi settori sicuramente, più che altri. Da più parti, tra cui le istituzioni, messaggi di cordoglie e di condanna per l'ennesima morte sul lavoro, i sindacati hanno concordato con l'azienda alla messa in libertà dei lavoratori. Nessuno in fabbrica fino a lunedì. Il problema reale è che oggettivamente non si investe sulla sicurezza e sulla formazione. Quello che noi sollecitiamo è sempre più dare un passo verso gli investimenti in modo da poter evitare quello che è successo stamattina in questo sito produttivo. Una cosa che, come ripetiamo, ancora è in fase di accertamento, ma indubbiamente abbiamo ancora un morto sul lavoro. Basta con i morti sul lavoro. E invece purtroppo è stata una giornata nera per le Marche perché un'altra tragedia si è consumata intorno alle 13 a Rapagnano. Un fabbro di 60 anni è morto a causa dell'incendio divampato nel suo laboratorio. Prima ci sarebbe stata un'esplosione, poi le fiamme che hanno investito in pieno l'uomo senza lasciargli scampo. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo hanno trovato il corpo dell'operaio ormai senza vita a causare l'esplosione. Forse le bombole di gas usate per alimentare la fiamma ossidrica, ma tutto è ancora da verificare. Sul posto per le indagini presenti anche i carabinieri. A proposito di indagini e monitoraggi, oltre che verifiche, sono quelle che richiedono i sindaci da Falconara alla Vallesina e ora guardando anche ad Ancona. Stamattina al castello Stefania Signorini, primo cittadino di Falconara, ha convocato i colleghi per cercare di fare fronte comune contro le esalazioni. Io avrò adesso un incontro in presenza con Arpam a cui chiederemo un monitoraggio continuo della nostra area, della nostra zona, delle nostre comunità, anche con laboratori mobili. Fanno fronte comune i sindaci per affrontare la problematica delle esalazioni che dal periodo di Natale stanno, interessando i rispettivi territori. Il primo cittadino di Falconara, Stefania Signorini, ha chiamato al castello la collega di Chiaravalle, Cristina Amicucci, Damiano Bartozzi e Andrea Tittarelli, sindaco e vice di Montemarciano, l'assessore all'ambiente di Monte San Vito, Piero Medi, in rappresentanza del sindaco Thomas Cillo. Per rendere l'azione ancora più incisiva si punta a coinvolgere anche Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, e Davide Fiorini, sindaco di Camerata Picena. L'incontro di oggi è fondamentale per iniziare a percorrere un percorso che sia comunque comune e che vada a tutelare in primis la salute dei cittadini di questo territorio, che non dimentichiamo essere un territorio comunque una zona a erca, quindi ha dato problematiche ambientali. Il problema che non è un problema solo di Falconara, appunto, ma anche dei comuni limitrofi e quindi cercare di attivare anche gli enti superiori che hanno le competenze per fare un monitoraggio dell'area preciso e capire quali sono questi problemi. Il fenomeno coinvolge tutti nello stesso modo, o perlomeno siamo sicuri che l'origine da cui scaturisce questa problematica è senz'altro univoca e quindi ci muoviamo contemporaneamente. Organi tecnici, ma anche ARPAM e ISPRA saranno coinvolti dal coordinamento istituzionale per compiere monitoraggi e verifiche sulla qualità dell'aria. Presto anche un incontro in prefettura con i rappresentanti dei territori interessati dalle esalazioni, che, come si diceva, non riguardano soltanto Falconara, ma Falconara è misura maggiore. Dopo le 200 segnalazioni arrivate dai cittadini tra Santo Stefano il 15 gennaio, oggi alle 12.30 l'Ufficio Ambiente ne aveva raccolte già 26. Una nuova udienza stamattina in Tribunale ad Ancona dopo la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Le parti civili sono state ascoltate, si va verso la fase conclusiva del processo. I familiari dicono che la Commissione non ha fatto il suo dovere. Giulia Boschi. Oggi è un'udienza dove il mio avvocato in primis sta rilevando tutte le inadempienze che sono state fatte dalla Commissione di Vigilanza, che già dal nome dice tutto, doveva essere vigile su degli aspetti così evidenti e nonostante tutto hanno tralasciato tante cose. La mamma di Daniele Pongetti, una delle sei vittime della tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo, ribadisce quanto dichiarato in aula dal suo avvocato. I legali delle parti civili hanno riferito le loro posizioni sulle responsabilità e linee inadempienze dei componenti della Commissione di Vigilanza, che nell'ottobre del 2017 aveva rilasciato al locale la licenza di pubblico spettacolo. Nel processo che riguarda le responsabilità amministrative della tragedia dell'8 dicembre del 2018, sono imputati anche Quinto Cecchini, uno dei soci della Magic SRL, la società che gestiva il locale, Francesco Tarsi, ingegnere ingaggiato dalla stessa società, Maurizio Magnani, tecnico della famiglia Amici, proprietaria dell'immobile. Per tutti loro accusati a vario titolo per reati che vanno dalla cooperazione in omicidio colposo plurimo al disastro colposo, passando per il falso e lesioni colpose, la procura ha richiesto una pena complessiva di 49 anni e 8 mesi di carcere. La sentenza è attesa per febbraio. È chiaro che sono stati 5 anni lunghi e dolorosi anche perché venire qua e sentire cose che per un familiare sono difficili da digerire. La nostra speranza è quella che questo processo arrivi alla fine, nel più breve tempo possibile, per noi familiari e soprattutto per Benedetta e per tutte e 5 le altre vittime. Vi raccontiamo ora la storia di Assad, che è un senza dimora che fino a poche ore fa dormiva al passetto di Ancona, la sua richiesta di aiuto dopo lo sgombero e dopo la rimozione dei suoi giacigli e di quelli delle altre persone che purtroppo sono costrette a vivere al freddo. Laura Meda. Vengo dal Pakistan, sono arrivato qui tre mesi fa, più o meno da novembre, perché in Pakistan non posso stare, è pericoloso per me lì, come per gli altri ragazzi. E dove vivi? Vivo qui, in strada. Siamo stati alla questura, abbiamo presentato le pratiche di asilo, ma hanno detto che non hanno posto per noi, così dormiamo qui al passetto, anzi, dormivamo qui. Lui è Assad, giovane richiedente asilo proveniente dal Pakistan, uno dei ragazzi stranieri che fino a giovedì passavano le notti sotto l'ascensore del passetto ad Ancona. Ci racconta che insieme agli altri ha chiesto un posto per dormire, ma di posti per loro al momento non ce ne sono. Scendiamo giù con Assad e gli altri ragazzi, tutti pakistani tra i 20 e i 30 anni, per la scalinata del passetto. Quindi voi dormivate qui? Ecco, vedi, noi dormivamo qui, qui fuori, qui mettevo il mio materasso, ma è molto freddo. E infatti, spiega Assad, molti qui sono malati perché si sono ammalati qui. E poi c'è che ha anche dei problemi di salute e pregressi, come questo ragazzo. Io ho dei problemi di salute, sì, ai reni, ho dei problemi ai reni, non posso stare qui, vivo qui da tre mesi. Qui, verso l'una, le due di notte, è davvero freddo, davvero, la mia vita, non so, è tutta un problema. Risaliamo insieme ai ragazzi e chiediamo loro dove dormiranno stanotte. Ci dicono che non lo sanno, forse, più probabilmente, non vogliono farlo sapere. La paura è che torni la polizia a prendersi di nuovo tutto ciò che hanno. È arrivata la polizia e si è presa tutto, le coperte, i vestiti, lo zaino, tutto quello che avevamo. Abbiamo già tanti problemi, non possiamo farci la doccia, non abbiamo un posto per andare in bagno, non abbiamo cibo e non sappiamo neppure dove andare, non abbiamo un posto. Solo le associazioni aiutano, portando coperte e cibo. A Sade, gli altri non chiedono altro che un posto dove stare e magari un lavoro. Cosa vorresti fare? Che lavoro sai fare? Io sarei uno chef, ma so lavorare anche nelle costruzioni e in agricoltura. Posso essere utile, vi prego, dateci una mano, fate qualcosa. A proposito di freddo, la protezione civile delle Marche ha reso noto in giornata che lo stato di allerta per quanto concerne il vento e le mareggiate prosegue anche domani e domenica. In particolare per sabato sono attesi venti da nord-ovest con raffiche di vento forte e burrasca tra 62 e 74 km orari. Le raffiche interesseranno i comuni della fascia costiera e quelli confinanti. Le precipitazioni interesseranno la prima parte della giornata e saranno di carattere piovasco o breve rovescio. Il limite della neve si attesterà attorno ai 500 metri. Ed ora andiamo a Cantiano dove oggi è stata la giornata della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elislein, che ha sparato bordate sul governatore Francesco Acquaroli e anche sulla giunta regionale dicendo che devono svegliarsi per far ripartire questa comunità così ferita dall'alluvione. Ripartire dalle aree interne, ripartire dai piccoli comuni e non lasciare indietro soprattutto coloro che sono stati colpiti dall'alluvione. La segretaria del Partito Democratico, Elislein, oggi a Cantiano ha incontrato il primo cittadino e gli altri amministratori locali dei comuni colpiti dall'alluvione per fare il punto sulla situazione. Diciamo che la giunta regionale si svegli perché ci pare che gli amministratori regionali del centro-destra siano più preoccupati di obbedire al proprio partito politico o al proprio capo politico che non fare l'interesse della propria comunità e del proprio territorio. Non possiamo essere solo noi a dire che i 400 milioni non bastano se 800 milioni almeno sono i danni stimati tra pubblico, privato e ristori. Noi come Partito Democratico anche con nuovi emendamenti, uno sarà votato la prossima settimana, insistiamo per avere i ristori al 100%, ci sono attività economiche che abbiamo incontrato che hanno perso davvero 200 mila euro, ne hanno visti per ora solo 20 mila messi lì grazie alle norme della protezione civile, serve uno sforzo in più, ci sono le risorse del piano del commissario della regione sulle opere pubbliche, ma questi comuni se non hanno un supporto sul personale come fanno con un geometra o un ragioniere a mettere a terra anche le opere di prevenzione di eventuali ulteriori disastri. Per contrastare lo spopolamento servono servizi, serve rendere la vita comoda e non troppo più scomoda perché altrimenti tutto spingerà le persone più a valle, non ce lo possiamo permettere perché poi è anche frutto dell'abbandono se l'evento climatico estremo colpisce più duramente un territorio. È una visita che riaccende i riflettori ed è quello che vogliamo, che non ci si dimentichi, che porti nei tavoli decisionali, nel Parlamento queste istanze per facilitare la ricostruzione di un paese. È paradossale come ormai le emergenze siano quotidiane e non ci sia ancora un protocollo di gestione che possa aggredire e semplificare la messa a terra delle risorse. Cantieri lungo la 14, sicurezza e una mappatura chiara dei lavori. Il deputato Benvenuti Gostoli ha interrogato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avrebbe ricevuto risposte confortanti. Il monitoraggio dei lavori sul tratto autostradale a 14, il rispetto del cronoprogramma e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la viabilità nel tratto interessato sono stati oggetto di un'interrogazione in commissione alla Camera presentata dal deputato Marchigiano Stefano. Benvenuti Gostoli. Ha risposto il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami. Sono stati lavori per la verità molto complessi, non solo di manutenzione straordinaria ma anche di efficientamento, rimodernamento dei ponti, delle gallerie, quindi peraltro lavori assolutamente necessari. Però noi non intendiamo allentare la pressione e l'attenzione delle istituzioni rispetto a questi lavori e quindi ho interrogato per sapere se venga rispettato, se allo Stato è rispettato il cronoprogramma e soprattutto se siano state adottate tutte quelle misure necessarie per garantire la sicurezza della viabilità in costanza appunto di questi lavori. E quali sono state le risposte? Devo dire, estremamente rassicuranti e confortanti, ma non lo dico perché per appartenenza politica, insomma perché effettivamente nel merito il MIT ha preteso dal concessionario con cadenza trimestrale un aggiornamento sullo Stato dei lavori, ha istituito un tavolo tecnico permanente per appunto confrontarsi su queste tematiche e ha chiesto che un potenziamento della segnaletica stradale, comprese anche le bande sonore, quelle che quando c'è un cambio di corsia di carreggiata suonano se uno invade l'altra carreggiata e tutto questo insomma ha garanzia di un potenziamento della sicurezza per evitare appunto che si verifichi come purtroppo accaduto nel passato degli incidenti anche mortali su quel tratto di autostrada. Sempre a proposito di viabilità è stata chiusa temporaneamente al traffico la strada provinciale 80 tra i comuni di Monte San Giusto e Monte San Pietrangeli a seguito del crollo di un edificio che costeggia la carreggiata. Il dirigente dell'ufficio viabilità della provincia di Macerata Matteo Giaccaglia insieme ai tecnici provinciali sono immediatamente intervenuti sul posto per verificare la situazione e chiudere la strada all'altezza del chilometro 2.8 incrocio con via Piani Ete. Tutte le decisioni sono state concordate assieme ai sindaci di Monte San Giusto Andrea Gentili e di Monte San Pietrangeli Paolo Casenove e anche loro presenti per un sopralluogo è stato contattato il proprietario dell'immobile che ora dovrà essere demolito e si sta lavorando per riaprire la strada nel minor tempo possibile. Cambiamo argomento, andiamo a Pesaro, l'attesa è finita, domani l'inaugurazione dell'anno della capitale della cultura 2024. Un palazzetto sold out in vista dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi concerti, balli e tanto divertimento fino a notte. Il sindaco Ricci dice è un sogno lungo dieci anni e sul terzo mandato invece ha intervenuto, ha detto guardo più all'Europei se solo la segretaria vorrà, io sono a disposizione. Maurizio Socci. Finalmente ci siamo, siamo arrivati ad inaugurare questo anno storico per la città di Pesaro e per tutta la regione Marche e lo faremo alla grande sabato 20 con il presidente della Repubblica che parteciperà, interverrà alla cerimonia inaugurale, ci sono già 8 mila persone che hanno prenotato il loro biglietto ed è davvero una partenza popolare che dimostra anche non solo il grande affetto nei confronti del presidente della Repubblica ma anche la voglia di esserci, di esserci in un evento appunto unico che segnerà la storia della nostra città. Poi sarà una giornata di festa dalla mattina fino alla notte perché poi il pomeriggio ci sarà il concerto gratuito di Max Gazet, la sera si ballerà con Casa Dei e poi la notte i più giovani organizzano una festa con tanti DJ e con Rosa Chemical. Pensiamo che durante la giornata si alterneranno circa 20 mila persone di età diverse fuori dal Palasport, nella piazza davanti al Palasport è allestito un villaggio di street food marchigiano e romagnolo e quindi si potrà mangiare, si potrà mangiare al caldo perché abbiamo allestito una struttura per mangiare, non c'è modo migliore per terminare questi dieci anni e al tempo stesso c'è un po' di rimorso perché la seconda parte del 2024 non la potrò vivere da sindaco ma la viverò diciamo da cittadino peserese orgoglioso. Qualcosa si dice no? I colleghi dei cinque stessi ma magari un terzo mandato giusto per farla completare dopo dieci anni che ci lavora, giusto da altri sei mesi che vuoi che sia, non è possibile, non è nelle cose? Al momento la legge non lo consente, c'è una grande discussione nazionale che però da mesi in verità ma che al momento non ha partorito nulla. Quindi non ci pensa quella eventualità, lo guarderà così per curiosità eventualmente questo terzo mandato? È difficile guardare una cosa che non c'è e quindi poi come sai io da mesi ho già dato la mia disponibilità a candidarmi alle elezioni europee quindi sono proiettato se ovviamente la segretaria del mio partito lo riterrà utile a quella sfida elettorale. Ci saremo anche noi ovviamente domani per raccontarvi l'inaugurazione della capitale della cultura 2024, appunto la nostra Pesaro. E noi così terminiamo qua il nostro telegiornale ma vi ricordo che tutte le news e le video news le trovate sempre pubblicate e aggiornate sul nostro sito www.etvmarket.it, sulla nostra app e sui nostri social. Grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata perché noi in compagnia dei nostri programmi, arrivederci. Grazie a tutti.